Cinque anni da referendum per l'autonomia del Veneto e la riforma inattuata infiamma al dibattito politico tra favorevoli e detrattori. Riesplosa nelle ultime settimane anche all'interno della stessa Lega con una feroce polemica la questione delle 23 materie richieste dal Veneto. Il costituzionalista Mario Bertolissi spiega come il progetto Veneto non mini l'unità della Repubblica. Si obietta appunto che le 23 materie finirebbero per alterare il quadro costituzionale e minare l'unità. Guardi che rivolgere una richiesta che riguardi tutte le materie non significa ottenere tutte le 23 materie, significa semplicemente dire allo Stato discutiamo di tutte le 23 materie. Dopodiché sulla base del negoziato, di ciò che ritiene lo Stato, di ciò che ritiene la Regione, bisogna essere d'accordo entrambi e bisogna poi che metta al suo timbro positivo il Parlamento, si giungerà al risultato di definire l'insieme delle competenze e delle risorse che vengono trasferite dallo Stato alla Regione. Se poi la riforma in senso federalista, chiesta in particolare dal Veneto, entri in conflitto con la riforma presidenziale tanto auspicata da Fratelli d'Italia, Bertolissi non ha dubbi. Sono due riforme che a prescindere dal livello cui si pongono di legge ordinaria da una parte o comunque di legge da una parte e di Costituzione dall'altra, se queste due sono in contraddizione le dico nel modo più assoluto. Proprio il sistema presidenziale statunitense ti dimostra che il medesimo non solo è compatibile ma è perfettamente coerente con un sistema forte di autonomia.